Musica Buonasera e ben chiatà Saniovis, è finita la tornata elettorale in regione cui ultimi 3 scindic elezzi in Taitre Comun, scomplui di 15.000 abitanti al Cambie e il Colore, tanta Codroi, che vince il balottaccio dei Stati Democratici Guido Nardini, tanta Dacciandi Pordenon, che il princittadin Marco Putto ha lasciato la fasce a Massimo Piccini. E gli è conto l'ultimo voto in vezità Guriz, che è stato confermato Rodolfo Ziberna, a cui entra in Laura Fasiolo per 550 preferenze. Bassa e l'affluenza in tutti i 3 comuni, dunque si resta sotto dal 50%. Alle di 2 persone sferite, il belancio di un esparadorio è succeduto a Bibion, un uo' di mattina dopo un baruffo e tre homes per causa, che si è in modo da ora capire, ha scominciato a baruffare tale park, dagli smacchini di un condomini, è un colpo, un dai tre ha tirato fu la pistola, e ha sbarato un colpo. fichiappato un albanese di 33 ans, talchiaf ferita anche un uomo di tisane di 60 ans, a sbaral colpa sarebbe stato un albanese di 55 ans, che dopo ha le schiampate di corse. Incidente stradale di Fortuna e Cenceferis, ma che l'ha causato un evore di fastidio, sulle autostrade a 34, e in prezvincolo di Villess parla a 4, è una macchina adatta dentro a un camion, facendo vigni fuori il gasolido, il camion che è rilata a finire sull'asfalto, chiapante dute la strade, il tratta resta scierata, bloccando le smacchini sa svincolo di Villess, per cui calveve di là, via Sla a 4, e dopo dosori, la strade e i tornade a Viergisi. Prindì di vore parla nuove Task Force regionale anti-Covid, incargate di analizzare la situazione tra gli ospedali della regione, capiti se in maniera arrivata gli esti, un nuovo possibile, simbile e più probabile, forte aumento dei casi di infezione. La Task Force, alla Sclaritti il vicepresidente regionale Riccardi, si occuperà di valutare le spossibilità di gestire in contemporanea ai tanti casi di Covid che gli slistis dai pazienti in spieti di interventi parati rispatologici, di muti di trasformare le situazioni emergente in tutte le situazioni di ordinarie amministrazioni. A son 356, in tanti news cash, saltas fur, tra gli ultimi svinti a 4 ore, a fronte di 1900 di stampons, nu fa son i pazienti, tra gli serapisi intensivi, 155 in che esalta i saris medichis, un muart residente in provincia di Trieste. Il monte dall'economia alle incorrotte pala muarte di Leonardo Del Vecchio, fondatore e presidente di Luxottica, che dopo è diventata essi la Luxottica, che al Didi Wea acconte 180 mil dipendenze. Del Vecchio, le reazioniste di Mediobanca, generali Ecovibio, aveva 80 si età, in scelere ricoverata a San Raffaele di Milano. In tal 2002, aveva vudele laudano riscausa dall'Università di Udin in Ingegneria gestionale. Il presidente della regione, Fedriga, l'ha annunciata la volontà di firmare state di emergenza in tal caso che la situazione all'edindenante inchimò per qualche idio, per qualche settemane, palassicitate, come Region, sovindiafe velat, curso restante dalla protezione civile, la sclarita e Fedriga. All'è un rapporto costante per un controllo attento e tecnico. Al Didi Wea non vediamo nessun segno che la situazione si ridaura all'Aimior, ma speriamo che l'Ore Nance che ho già firmato non permette di arrivare a una certa stabilità finché non cambino le condizioni dal meteo. Il controllo della qualità dell'Aiar in Region presentata dall'ARPA mostra una Regione in salute con gli zoni che si ha riscritti in sabrugnere e si accirpa alla vicinanza con la pianura padana. Il problema è più grande, tal resta che il riscialdamento di combustibili insolite, tantche lense che se non venne bruciate dalla maniera giusta e libere adienze, inquinanze. Novis Olmis di Orsa sono stati chietati di Saugovice di Lunchi il Troic e di Madone della Nef al Va al Parc dei Macchini dal ripar nordio. Sono stati di Siodudis lungi e sgrifati lasciati dalla bestia come marche dalle territori. L'Orsa resta Lampardia e tre escursionisti anche sul confine in Fritalia e Austia e l'è possibile che l'esemplare al sedi che è stesca l'estate fotografata in tal 2000 di Ginuf con una fototrappola di Federcaccia o anche un vecchio ors maschio osservato anche da ricerchi ad osa al progetto lince traverso di un radio golar. In regione esiste una popolazione stabile di orse ma sono esemplare di orsugno che appazzino il confine ribanda la Slovenia o dall'Austria e anche per l'osignota le dute i saltoni domani di sede sempre a Snuf man col vinti a Emandi e buona serata di Odisse